Grazie a tutti. Grazie a tutti. Intervento del Ministro del Turismo, Daniela Garnero Santanchè. Grazie, innanzitutto grazie a tutti i presenti. Ringrazio anche il Segretario Generale e tutti quanti perché oggi credo che sia una giornata veramente importante. Quando correva il mese di novembre, nella giornata contro la violenza alle donne, avevamo annunciato insieme a tutte le associazioni di categoria questa nostra iniziativa insieme al Ministro Rocella. Eccoci qua. Oggi ce l'abbiamo fatta. Di solito si dice che vengono fatti gli annunci, ma poi che non ce li esecuiscono, cioè non si atterra negli annunci che vengono fatti. Invece oggi noi siamo orgogliosi di essere qua perché credo che questa sia un'iniziativa molto importante per le donne. Io devo ringraziare tutte le associazioni di categoria che dal primo momento, dalle mie prime telefonate, con grande slancio, hanno detto noi ci siamo e noi partecipiamo. Devo ringraziare, lasciatemelo dire, Carlo Cimbri perché è stata la persona che mi ha aiutato di più e che ha anche permesso attraverso l'agenzia creativa che poi ha ideato questo luogo degli alberghi solidali, che poi lascerò alla fine la parola loro perché ci spiegano in pochi minuti come mai abbiamo scelto questo simbolo. Sull'iniziativa cosa vi dico? Delle cose importanti perché voi sapete che la violenza sulle donne tutti i giorni purtroppo peggiora e sempre di più. Le donne subiscono violenze e maltrattamenti e anche i loro figli sono vittime di questo percorso di violenza che spesso è all'interno delle famiglie. E quindi abbiamo pensato che dopo il loro percorso di queste donne poterle ospitare negli alberghi per farle riprendere il percorso di una vita normale, di ritornare a una vita normale, di avere un periodo di tempo di stare in un ambiente che le fa sentire più forti e che le fa anche da un punto di vista psicologico riprendere in quelle forze che hanno speso tantissimo durante il periodo che hanno subito i maltrattamenti, ci sembrava una cosa molto giusta. Essere al loro fianco perché credo che la cosa più importante sia il messaggio che queste donne non devono sentirsi sole, devono sapere che c'è una struttura, delle strutture intorno, che stanno con loro perché ne capiscono tutta la drammaticità del percorso che hanno dovuto affrontare. Per cui sono contenta e sono orgogliosa oggi di questa iniziativa e soprattutto tutto questo è stato possibile perché le associazioni di categoria sono state generose, hanno capito senza nessun tipo di insistenza ma hanno aderito con entusiasmo dando anche dei contributi molto importanti e questo fa capire che gli italiani sanno essere generosi e solidari. Grazie. Anche io non ho molto da dire perché l'iniziativa secondo me si illustra da sola. Sono molto contenta che intanto sia stata un'iniziativa di due ministri che hanno collaborato perché qua anche questo dà un segnale di solidarietà femminile e di attenzione di questo governo che peraltro non a caso è presieduto da una donna nei confronti delle donne. Il problema della violenza purtroppo è un problema che per adesso nonostante buone leggi che sono state fatte non siamo riusciti fino in fondo a contrastare. L'abbiamo visto durante la giornata contro la violenza sulle donne quando abbiamo illuminato Parazzo Chigi proiettando i nomi delle donne morte nell'ultimo anno e il numero era veramente impressionante e dobbiamo fare sicuramente di più. Abbiamo cominciato subito a fare di più fin dalla legge di bilancio abbiamo rifinanziato il piano contro la violenza e quindi i centri contro la violenza i centri di accoglienza rifinanziato aumentando il finanziamento già previsto abbiamo messo in campo altri strumenti perché le donne possano uscire dalla violenza attraverso anche l'autonomia economica quindi rifinanziando il reddito di libertà e anche mettendo in piedi nuovi strumenti come il microcredito di libertà per cui se una donna ha la possibilità di mettere in piedi un'attività propria per esempio possiamo facilitarle l'accesso al credito però questa iniziativa di oggi è importante proprio perché non è solo un'iniziativa del governo non è una legge è un'iniziativa che parte dalle associazioni di categoria parte tra l'altro la ministra Santanchè mi ricorda mi ha ricordato che il settore del turismo è un settore a fortissima componente femminile quindi anche questo è significativo quindi è un'iniziativa che è partita proprio dalla comunità ecco a me piace molto questo termine perché ha ragione la ministra Santanchè quando dice il problema è non lasciare le donne sole anche quando ricordo ancora la giornata contro la violenza tutto il governo è sceso giù non per una foto opportunity ma per dimostrare che c'è una compattezza che c'è una volontà comune di affrontare questo problema e quindi che lo vogliamo fare a partire da tutte le competenze e le deleghe che sono distribuite nei vari ministeri ecco e questo è un primo esempio questa possibilità di una volta fuori uscite dal momento critico della violenza di avere un momento di tranquillità, di sollievo, di distrazione qualcosa che possa dare una pausa un momento di respiro alle donne che hanno vissuto questa esperienza terribile mi sembra fondamentale e mi sembra fondamentale proprio l'idea che c'è dietro cioè di non lasciarle sole l'idea di una comunità solidale che si stringe intorno alle donne che hanno subito questa esperienza e che dimostra nei fatti di non volerle lasciare sole grazie ecco prima di farvi vedere quale sarà il simbolo lascerei pochi minuti la parola all'agenzia creativa che ha studiato insieme a noi qual era il simbolo perché migliore per poter rappresentare questa iniziativa grazie innanzitutto grazie è stata una bellissima opportunità per noi perché utilizzare un segno perché raccontare questa iniziativa attraverso un segno perché un segno aiuta a rendere più riconoscibile un'iniziativa e in questo caso anche a raccontarla meglio ma renderla più riconoscibile per chi poi dovrà utilizzare questa iniziativa tra i vari territori concettuali che potevamo scegliere per ideare questo logo abbiamo scelto il territorio concettuale che raccontasse l'accoglienza la serenità, il recupero e quindi non un segno di denuncia di un problema quanto un segno che raccontasse la soluzione di un problema a questo territorio concettuale abbiamo collegato dei simboli in primis il simbolo della porta la porta che racconta anche qui di accoglienza racconta di rifugio e per raccontare, per scegliere nella porta abbiamo scelto il simbolo iconico dell'hotellerie e quindi il cartellino di non disturbare che si usa appunto sulla porta del mondo alberghiero ma insieme a questo simbolo abbiamo scelto anche altri due simboli quello del cuore e quello del sorriso proprio perché in questi luoghi le donne devono poter trovare anche serenità e la possibilità di ritrovare questo sorriso che invece hanno perso infine una nota solo sul colore abbiamo scelto anche qui un colore non tanto di denuncia quanto poteva essere un rosso ma abbiamo scelto un colore comunque nel mondo femminile quindi questo lavanda che spiegasse appunto questi valori dietro questo simbolo grazie ecco come vedete questo simbolo che sarà esposto oggi abbiamo già più di mille alberghi che hanno aderito a questa iniziativa questo lo metteranno alla reception e poi consegneremo alle associazioni di categoria invece il simbolo che sarà posto proprio all'esterno delle strutture alberghiere per far riconoscere quali appartengono a questa rete di alberghi di hotel solidali a inizio la cerimonia di firma del protocollo di intesa firmano cna turismo e commercio l'associazione italiana l'associazione italiana confindustria alberghi assotel associazione italiana imprenditori d'albergo confesercenti gruppo una spa feder alberghi federazione delle associazioni italiane alberghi e turismo feder turismo confindustria il ministro per la famiglia la natalità e le pari opportunità e eugenia maria roccella e il ministro del turismo daniela garnero santanchè grazie a tutti 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 grazie a tutti